Questo programma è presentato da amici telespettatori e la buona serata a tutti voi da più giorni Il tema di fondo della politica non soltanto di casa nostra o della politica nostrana Il tema è autonomia differenziata sì, autonomia differenziata no Vito Pirruccio che è il presidente dell'associazione I care il museo della scuola Ha scritto, anzi è quasi un saggio questo suo studio Dove parla di balletto della ipocrisia, della grande ipocrisia Questa autonomia differenziata fa un'analisi seria, profonda, sicuramente di parte E allora vogliamo nel tempo ascoltare le diverse campane Per venire fuori da tanti dubbi che assillano la nostra mente Ma anche per capire che cosa vi è stato in questi ultimi 23 anni Dal momento in cui i primi approcci si hanno nel 2001 Ma le date sono quelle principalmente dell'8 marzo e del 7 ottobre di quell'anno Dove queste date, dice Vito, dovrebbero rimanere come pietre miliardi impresse nella nostra mente Ma il gioco della politica Come cambiano gli indirizzi nel nostro paese Mutano pure gli atteggiamenti nei confronti di quelle che dovrebbero essere i filoni cardine di una democrazia partecipata Ossia destra, sinistra, centro Potrebbe essere considerato un valzare delle sorprese A quel tempo, nel 2001 Presidente del Consiglio era Giuliano Amato Una delle teste d'uovo di Via del Corso Quando contava il Partito Socialista Ma lui rimane sempre ancorato negli alti filoni della politica Ricoprendo tutte le cariche possibili ed immaginabili Tranne che quelle di Presidente della Repubblica A quel tempo Il vecchio Partito Comunista Era gestito da Massimo D'Alema Fior fiori di protagonisti della politica nostrana Della politica nazionale Ma anche fiori di giuristi Hanno visto nell'autonomia Uno dei maggiori momenti per la crescita dei nostri paesi Sul presupposto che gli enti venivano autogestiti Cadevano quelle barriere Che di fatti minavano la realtà di tanti comuni Dato che tutti gli atti venivano poi ad essere anche avallati Dai vari comitati di controllo Allora questa autonomia Che noi diciamo Per quel che mi riguarda si intende Bene diciamo quei vecchi comitati di controllo Che di fatto ponevano veti E veti a non finire Per quel che riguarda la gestione della vita pubblica Con questa autonomia che si parla da tanto tempo Oggi tanti nodi sono venuti del pettine Dove ciascuno cerca di portare avanti A supporto della propria tesi Se sì autonomia Sì differenziata No autonomia Nemmeno differenziata Ma che cosa ne è venuto fuori Tanti iter Richiede pure La modifica del titolo quinto della Costituzione Perché E in questo caso Richiede già di per sé Nella votazione Del Parlamento Almeno i due terzi Degli eventi di diritto E va trova le due terze Altrimenti si arriva al referendum Tante campane dicevamo Noi non abbiamo Contezza Perché le nostre espressioni O i nostri pregiudizi Molte volte Minano O spianano La tesi Che noi ascoltiamo O che abbiamo recepito Da altri Soggetti Ma difficilmente Abbiamo interiorizzato E fatto nostri Quei capisaldi Che dovrebbero sicuramente Porre in essere Gli elementi I cartili Per una democrazia Partecipata Di una democrazia matura Io trovo difficoltà Perché sono Per alcuni aspetti Favorevole Ad una Autonomia Ma che di fatto Potrebbe essere Anche di per sé Come La vita di tutti i giorni Ci insegna Posto affrontamento Delle nostre Prerogative democratiche Da altri aspetti Potrebbe essere Invece O stativa Per quel che riguarda La crescita Anche dei nostri paesi Dobbiamo affidarci Alle menti Che sanno più di noi E che meglio di noi Riescono Ad inquadrare I problemi Vito Perruccio Ha scritto Questo saggio Autonomia differenziata Dicevamo E in questo Balletto Che lui Definisce Della grande ipocrisia Vogliamo capire Qualcosa di più E di meglio Per trarre anche Gli spunti Per un nostro modo Di vedere E di comportarci Con gli altri Per riflettere Su quella che è La nostra realtà Attuale E prendere poi Coscienza E consapevolezza Sul muoverci In questo meandro Della politica Nostrana Vito Hai dovuto Sfogliare pagine Hai avuto Il tempo opportuno Di assimilare i concetti Vogliamo ascoltare E capire Questo tuo Tuo O tuoi principi Bene inteso Che difficilmente Si riuscirà All'unisono A pervenire A una soluzione Accettata da tutti E allora È interessante Che il dibattito Ci sia Perché ciascuno Prenda coscienza E consapevolezza Di che cosa Ha bisogno Il nostro paese Non farci Spingere Da volate Di vento Che molte volte Ci possono pure Portare nel baratro Ma pure Questo vento Potrebbe essere Foriero Di indurci A raggiungere Più presto Il traguardo Desiderato Ecco Altare E contraltare E allora In questo tuo studio Emergono Delle realtà Molto Da riflettere I votanti Alla fine Della discussione Dell'iter parlamentare Che parlano chiaro Partiti Che allora Erano contrari Oggi Sono favorevoli Ecco il balletto Della politica Allora come oggi Ci invede Protagonisti Per quel che riguarda poi La gestione diretta Di questa autonomia Ma anche Succubi Di quella che è La politica Di circostanza Guarda Io Come te Come Che osservo E naturalmente Sono impegnato A seguire Le vicende Della politica Se c'è una cosa Almeno personalmente Che mi urta E che Tutti parlano Invocano La carta costituzionale No? Defendola poi Ormai Diventata Sulla bocca di tutti La più bella del mondo Ma Però I comportamenti Poi Non sono conseguenti Perché la costituzione Non si modifica Secondo gli umori Del momento Vole a dire Non può essere In balia Della Delle Turbolenze Politiche O Peggio ancora Come è stata E come vedremo È stata Utilizzata Strategicamente Guardando Al Al momento Politico Specifico Perché Io dico Che il 2021 E una Pietra Miliare E sono due Le date L'8 marzo Del 2001 E Il 7 ottobre Del 2001 Cosa avviene In queste due Due date In questi due giorni L'8 marzo Del 2001 Arriva In porto In Parlamento Sappiamo che Unite Aggravato Quello di Modificare La Costituzione La proposta Che era partita Dalla bicamerale Poi la bicamerale E fellita L'ha fatta propria Allora Il centro-sinistra Di modificare Il titolo quinto Della Costituzione Vale dire Di modificare Quella parte Appunto Che riguarda Le regioni Provincia E introdurre Delle modifiche Una modifica Perché viene utilizzata Strumentalmente Questa modifica Dovremmo ricordare Qual era il dibattito Politico D'allora La Lega Era in ascesa E allora Ricordiamo tutti In particolare Un dibattito Del centro-sinistra Vale a dire Dopo la prima Esperienza Fallita Della Lega All'interno Del centro-destra Ricordiamo Il primo governo Berlusconi Qualcuno Ha ipotizzato Un po' Come l'errore attuale Secondo me Che la Lega Fosse una costola Della sinistra La definì così Allora Massimo D'Alema Perché il voto Operaio Era espressione Della Lega Una serie di considerazioni Si pensò Allora Pensò Strategicamente E secondo me Questo è sbagliato Non si modifica La Costituzione Come strategia Politica Di venire incontro Alle esigenze Espresse Dalla Lega Fin d'allora Ricordiamo che la Lega Partisse Cessionista E poi Diventò Autonomista Però dobbiamo dire un'altra cosa Scusa che ti interrompo La Lega A quel tempo Nel 2001 La Lega Che aveva Una grande Forza politica In quelle regioni Trentino Alto Adige Frutti Venezia Giulia E Veneto E di conseguenza Regioni che si basavano E chiedevano Una autonomia Arriviamo Sotto questo punto di vista Arriviamo Ma la Lega Partì Secessionista Ci ricordiamo tutti Infatti si chiama Lega Nord Partì Secessionista Con Alberto Di Giussano Roma Ladrone Erano tutti messaggi Che alla fine degli anni 80 Inizio degli anni 90 Poi portò Alla svolta E oggi invece Scopriamo Una Lega Autonomista Dal momento in cui Si introduce L'autonomia differenziata In Costituzione Nel 2001 Viene votato In Parlamento L'ultimo iter L'ultimo passaggio Una legge di modifica Della Costituzione Appunto L'8 marzo Del 2001 Che modifica Il titolo quinto E introduce L'autonomia differenziata Come la stiamo discutendo oggi Poi Qualcuno dirà Ma lì c'erano scritti Che ci dovevano essere I cosiddetti LEP Che i livelli essenziali Dei servizi E delle prestazioni Una serie di cose Ma lasciamo stare Viene introdotta La modifica Della Costituzione Questo è un vulnus Che non è facile Rimuovere oggi Voglio dire Modificare la Costituzione Richiede Uniter Tanto è vero Che allora Venne approvato Con un colpo di maggioranza Il centrosinistra Quista la grande responsabilità Approvò quella modifica Con la metà più uno Cioè con la maggioranza Assoluta Che ebbe in Parlamento Allora I partiti Del centrosinistra Votarono Votò naturalmente Votò naturalmente Tutto il centrosinistra Allora compreso Ricordiamo Si chiamava L'Ulivo No? Era Democratici di sinistra Per L'Ulivo E i progressisti Per L'Ulivo Poi si chiamò E io allora Che cosa ho fatto? Io sono andato A leggere I risoconti parlamentari Cioè vedere Come hanno fatto Le dichiarazioni Di voto I vari gruppi parlamentari Si sono espressi Il partito democratico I verdi Devo dire la verità Gli unici Che votarono contro Sono E erano i due Rappresentanti Di partito di rifondazione Comunista Che era un senatore Che si chiama Co Ed un senatore Che si chiamava Russo Spena Che si chiama Russo Spena Ma ormai Questi due Non sono più Senatori della Repubblica Devo dire la verità Gli unici Sono stati I due rappresentanti Di rifondazione Comunista La destra O meglio Il centro-destra Non fece nessuna battaglia Vale a dire A parole Disse Noi non parteciperemo Al voto Perché la modifica Della Costituzione Restarono Restarono in aula E non hanno partecipato Al voto Per cui Passò Su 177 Voti 178 presenti 177 votanti 171 votarono Quindi la maggioranza 171 Cioè tutto il centro-sinistra Votò Votarono contro I due rappresentanti Della rifondazione comunista Un rappresentante Della Unione valdotenne Cioè Gli autonomisti Veri Diciamo che sono Quegli autonomisti Che lo sono sempre Stati in Italia Anche perché Quelle autonomie Speciali Gli hanno consentito Di stare benissimo All'interno Dello Stato Italiano Ora Che cosa avviene Allora Sono andato A rileggere Quello che diceva Quindi il centro-sinistra Allora Non mosse un dito Non mosse un dito Il sindacato Non mosse un dito Le organizzazioni Che oggi Si strappano Le vesti No Tutte le organizzazioni Che oggi Parlano Di autonomia differenziata Come spacca Italia Come viene coniato Sono quelli Uguali Dovrebbero chiedersi Il perché Allora Si votò In Parlamento Una modifica Di questo genere Peggio Ancora Il centro-destra Dicevo Non partecipò Al voto Ma Adducendo motivi Che non erano Contrari All'autonomia differenziata Ma che dicevano Che andava Rivista Diversamente E che comunque Dice Faremo la battaglia Referendaria Perché una volta Che viene approvata A maggioranza Si va al referendum Perché non ci sono Diciamo A chi ci ascolta La casa Perché non si possa Pervenire al referendum Devono essere I due terzi Di conseguenza Una maggioranza Di per sé Poi qualificata E invece Si andò al referendum Però qui c'è una responsabilità Elettorale Andò a votare Il 34% Del corpo elettorale Ricordiamo Che per i referendum Conformativi Di modifica C'è bisogno Al 54% No no Non c'è bisogno C'è bisogno solo Per i referendum Abrogativi Quelle confermative Non c'è bisogno Per cui Il 34% Del popolo italiano Si recò alle urne E di questo 34% Il 64% Ha detto Io voglio la riforma Della Costituzione Ha detto Di sì Votò no Soltanto Il 36% Di coloro Che si sono recate Le urne Quindi vedi C'è una responsabilità Additabile Ai partiti Che oggi Si strappano Le vesti E un'altra responsabilità Additabile Al corpo elettorale Nessuno Fece una battaglia Referendaria Non lo fece Il centro-sinistra Che peraltro Non la poteva fare Perché aveva Modificato la Costituzione Quindi che doveva dire Non la fece neanche il centro-destra A dire il vero Se tu vai a vederti Il risito elettorale In Calabria In Calabria Passò con il 62% La modifica Della Costituzione Vabbè che mandò a votare Il 34% Del corpo elettorale Ora Questo che cosa ti dice Ti dice Che in un momento Di Politico particolare I partiti Tutti i partiti Che oggi parlano Chi ha pro Chi pro Chi contro Sono in contraddizione Tra di loro Qualcuno mi potrebbe dire Non c'erano allora I 5 stelle I 5 stelle Verranno dopo E nel famoso Contratto di governo C'è pure Di governo Che hanno siglato L'allora governo Giallo-verde Valle a dire Nel 2018 Fecero quel contratto Tipo Avevano Tipo quello Fatto in Germania E poi venivano In televisione E ti facevano vedere Questo per quanto riguarda Non so Il reddito di cittadinanza Questo per quanto riguarda Il decreto Immigrazione Misero nel contratto Di governo L'applicazione E l'entrata in vigore Dell'autonomia Differenziata Però non fecero In tempo A deliberarla Perché il governo Cadde E subentrò Il governo Draghi Con Draghi Questo argomento Non si aprì più Viene riaperto Oggi Oggi si riappi No ma prima di andare D'oggi Guardiamo E leggiamo E voleva dire una cosa I dati I dati Del 2001 Che ha Un subestrato Ancora più profondo Negli anni precedenti C'è Ma vi è stata pure L'opportunità Di vagliare Di esaminare Di ponderare Un aspetto Di questa puntata Perché si tratta Della modifica Della condizione Quindi vorrei un attimo Che ci soffermassimo Qual è il punto dolente Nella storia politica italiana Qual è? Se qualcuno Quando siamo andati a scuola Questo è stato il tormentone Della storia Della storia Che dall'unità Ad oggi Noi abbiamo Un'unità conquistata Dal punto di vista Diciamo Istituzionale Politico Come nazione Ma mai Una vera e propria unità Realizzata Per esempio La questione meridionale Si parla Dalla questione meridionale Si parla Da quando è nata L'Italia Un indipendente Nel 1861 Mai è stata realizzata Questo è stato Il tormentone E devo dire la verità I costituenti I quali Hanno inserito Nella costituzione Il governo Cosiddetto Delle autonomie No? Ma regionale E delle autonomie locali Anche lì C'è stato Un dibattito Molto intenso Però A differenza Dell'oggi Quel dibattito E la costituente Avvenne nel momento In cui Era accaduto Il fascismo E lì Anche lì Le posizioni Erano conflittuali Perché c'era Il partito popolare Dosturzo in particolare Che era per l'autonomia Ma non per l'autonomia Come si vede oggi Per gestire Quelle che sono Le risorse Di cui dispone Senza che ci siano Di pressioni Da destra Da manca Sul presupposto Che doveva Consentire Di autodeterminarsi Che era Una cosa ben diversa Però Allora Se uno va a leggersi Quello che è avvenuto Nel dibattito Alla costituente Allora La sinistra Era contraria All'autonomia Perché temeva Quello che è stato Sempre Il cruccio In Italia Che qualsiasi tipo Di autonomia Poi arrivasse A mettere in crisi L'unità Dello Stato Tanto è vero Che se Alla costituzione I costituenti Hanno voluto subito L'Italia È mutabile No no E poi ti dice L'Italia Una è indivisibile Cioè La premura subito E questa è stata Fortemente voluta Durante la costituente Della sinistra Era quella Di richiamare All'unità All'unità del paese Il dosturzo Nella costituente Era per l'autonomia Però per un motivo Molto semplice A parte Che era Proprio L'impostazione Data dal partito Popolare Prima ancora Dell'avvento Del fascismo Quando è nato Ma perché Voleva che si costruisse Una classe dirigente Perché una delle penulie Che aveva L'Italia Si veniva fuori Da un sistema Politico Che bisognava Abbattere E ricostruire E non via Per ricostruirlo Per poter portare avanti Una scelta diversa E allora Don Sturzo Allora Il discorso suo Era quello Noi pensava Che le autonomie Poi producessero Come Non è errato Divisione No Ma producessero Anche una classe dirigente No Quindi la vedeva Come costruzione Del basso Di una classe dirigente Tanto è vero Che questo Lo capì La sinistra Un po' tardi Lo copì A finire Degli anni Sessanta Quando Le cose Cambiarono E allora Sono stati I partiti di sinistra A volere fortemente L'istituto regionale Infatti L'istituto regionale Nasce Nel 1970 Quando Questo Quando capirono Che non potendo Andare al potere Allora La sinistra Non poteva Per gli assetti Internazionali E allora Però Nelle autonomie Nei governi locali Si era imposto E allora Questo Gli dava Uno spazio Politico In effetti Devoiamo dirlo Questo La costruzione Della classe dirigente È avvenuta Negli enti locali C'è stata Questa Trafila di promozione Però Non è mai Arrivata A quella Unità Vera Dello Stato Invece Nel 2001 È stata Utilizzata Come Strategia Politica Ma la domanda Ma la domanda Ma la domanda Che io vorrei portare Adesso È un'altra Hai fatto Questo escurso Spero Il discorso Di fondo I partiti Della sinistra Che hanno Nel 2001 Votato Compatti Tutti Anche Di Pietro Io vedo Le indicazioni di Di Pietro Con il suo movimento L'Italia dei Valori E venivamo fuori Da quella realtà Di Tangentopoli Vedo Fausto Marchetti Del Partito Dei Comunisti D'Italia Gli italiani Vedo Fausto I Verdi Ma vedo Gli stessi Senatori Verdi Certo Tutto il centro-sinistra Votato Ma non soltanto Che votano Il giudizio Positivo Che danno Che ha Auspicano Un voto Per migliorare Dal basso Una democrazia Partecipata Sì Ma pure Come una gestione Delle risorse Ai fini Di un miglioramento Di una realtà produttiva Che poi Non avviene E questo Che salta subito All'occhio Questo discorso Che potrebbe anche Starci No Potrebbe starci Ma Santo Dio Se viene Questo tipo Di scelte Viene fatta Sulla pressione Esercitata Da un movimento Chiaramente Secessionista Perché la Lega È stata all'origine Secessionista Poi si convertì Però Se avviene Sulla spinta Di questo Questa azione Emotiva pure Non solo Vera Ma anche emotiva Non si fa Una modifica Della Costituzione Ma a me mi interessa Poco la Lega Perché la Lega In quel tempo È una realtà Che aveva In quelle regioni Del nord Le tendenze L'elettorato Ti premetto una cosa Che sembra strano Molti meridionalisti E politologi Che sposavano Un riscatto Del mezzogiorno Non avevano capito Che la Lega Da Partito delle Autonomie Del nord Che l'abbia sempre Invocata Sarebbe Col passato Del tempo Ampliata Perché dal nulla Nasce Però si sviluppa In una maniera Talmente Forte Tanto da invadere E di Ecco per quale motivo Poi ci sono Mutamenti politici Col passato Degli anni Perché non può Essere più Focalizzata In quella realtà Del nord Ma deve stendersi E diventare Un sistema Un sistema Nazionale Però vi faccio Un'altra domanda Faccio una domanda Se tu Io parlo Tu classe politica Tieni all'unità Del paese Tu questa fotografia Dell'unità del paese Ce l'hai Ora Ad unità Il paese Non è arrivato Perché sono mancate Le azioni Di attenzione Verso le parti Debole Del paese O perché Non hanno avuto L'autonomia Queste parti Debole del paese Perché tu dovevi Guardare prima Le parti debole Piuttosto che Le parti Ma non solo Ma vi faccio Questo ragionamento Allora Tu dici Per poter arrivare Ad avere un paese Unito E nello stesso tempo Avere un'autonomia Differenziata Dobbiamo avere Livelli essenziali Allora tu prima Realizzi Livelli essenziali E poi parli Di autonomia Non puoi pensare Allora È come una corsa Un paese E ce l'hai Bene insegnato Doveva insegnarcelo L'esperienza Tedesca I tedeschi I tedeschi Nell'89 Si trovavano In un paese Diviso Non solo Che era diviso Dal punto di vista Politico La Germania Dell'Est E la Germania Dell'Ovest Ma quando Cadde il muro Erano due paesi Completamente Diversi No ma non solo Diversi Economicamente Economicamente Che vi era Un abisso Totale La Germania Dell'Est E la Germania Dell'Ovest Non perché Dobbiamo copiare Però Quando si tratta Di copiare Il bene Si può copiare Anche il bene Ma cosa fece Allora Allora Cosa fece Col Tutti i grandi Che hanno Compiuto Quel tipo Di operazione Tutti I cancellieri Che poi Sono succeduti Crollato il muro Crollato il muro Gli interventi Sono venuti Nella parte debole Che cosa fecero Guardarono Prima Per coprire Quel gap Economico Che esisteva Tra le due Germania Questo Dobbiamo 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 Dirlo La prima cosa Che fecero Che era la moneta Allora Non c'era ancora L'euro C'era il marco Hanno fatto Un'equiparazione 1 e 1 Un marco Tedesco Occidentale Equivaleva A un marco Tedesco Quello significava Che l'Occidente Si metteva Sulle spalle Anche i pesi Che venivano Dalla parte Benissimo Questo significa Questo significa Avere a cuore L'unità del paese Invece Qui da noi Cosa viene Registri Per l'ennesima volta Che questo paese È disunito Economicamente Martoriato Una parte debole Completamente Abbandonata A se stessa E in mano Anche Spesso A forze Di dubbia Legalità Tu non hai Il controllo Tu Stato Sto parlando Dello Stato Tu non hai Il controllo Vero intero Del paese E ti puoi permettere Il lusso Di parlare Di autonomia Tu non hai Un piano strutturale Che sia Nord e sud Equivalente Tu non hai Servizi Ma non è Cosa Ma pure che ce l'hai Non lo puoi attuare Aspetta Tu non hai Servizi Ma parliamo Soltanto Delle infrastrutture Ma ecco Il discorso La disparità Avviene Nel momento In cui tu hai 1200 chilometri Di differenza Di difficoltà Che non ti mettono Nelle condizioni Di poter operare Uno Uguale a uno Ma le merci Che vanno Dal sud Verso il nord Richiedono Capitali Un costo Maggiore Ma nello stesso tempo Non sono Di conseguenza In grado Di incidere Sui mercati Tu basta Leggere Quando tu vai A leggere Alcuni dati Il problema Dei trasporti E noi lo vediamo Ancora oggi Scusa Scusa che Completo il discorso Quindi quando tu metti sul tavolo Che tu A livello di partenza Diciamo La corsa Che stiamo portando avanti È una corsa Impari Allora Tu devi preoccuparti Di metterti Sulle spalle Quella parte Del paese Di portarla Non di affidarla All'autonomia Perché abbiamo visto Le regioni Nate nel 1970 E di fatto Entrate Diciamo operativi Nel 72 E allora Se andiamo ad analizzare Qual è stato La ricaduta Quali sono le ricadute Positive e negative Noi Per specie Per quanto riguarda Ma non solo Guarda solo il sud Basta vedere Noi abbiamo avuto La pandemia Abbiamo visto anche Nella sanità Ora Se tu questo paese Ce l'hai Strutturalmente diviso Allora Io mi preoccuperei Piuttosto Di renderlo Prima strutturalmente Unito Dopodiché Si può parlare Di autonomia Di assunzione Di responsabilità Perché io Questo discorso Lo dovremmo fare Noi in particolare Uomini e donne del sud Noi dobbiamo riconoscere Anche Alcuni nostri Difetti strutturali Li dobbiamo riconoscere Non ci dobbiamo coprire Dietro La difficoltà Che oggettivamente Viviamo Però Tu Stato Che deve avere a cuore L'unità del paese La prima cosa Che deve fare È quello Di mettere strutturalmente In grado Questo paese Di camminare Di camminare Insieme Il problema Della pandemia Quelli che sono Fautorevoli Alla Questa Autonomia Differenziata Dicono Che per quel Che riguarda La sanità Dalla parte Più ricca Debbero Intervenire A favore Della parte Più debole In modo tale Da partire Con una Resultà Omogenea Ma non si parte Però in autonomia È come se tu Dicessi Scusa Io voglio dare Un'immagine Se noi abbiamo Tu hai una fuori serie E io ho una macchina Sgangherata Tu mi puoi dire Non ti preoccupare Te la giusterò Questa macchina Non ti preoccupare Ma partiamo Intanto Nell'autonomia Che partenza Puoi fare Tu La parola stessa Quando tu metti Autonomia Differenziata Tu già la qualifichi La contraddizione È in termine È nel termine stesso Ora io non sono contro La democrazia presuppone Assunzioni di responsabilità Su questo non ci sono dubbi Io sono stato sempre contro Il piagnisdeo Io sono per l'assunzione Di responsabilità Però Oggettivamente Non è la stessa Tu sei un amministratore Ti faccio la domanda Giovanni Tu sei un amministratore Oggettivamente Amministrare Il comune di San Giovanni Di Geraci Che ha Le sue La sua Periferia Nella stessa Nella stessa regione No E amministrare Un comune Anche delle tue dimensioni Nella vallata Del Bergamasco Non può essere La stessa cosa Oggettivamente Non può essere La stessa cosa Perché 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 il contesto È completamente diverso Ma al di là Di Ma non è questione Di capacità Sono realtà Sociali Economiche Differenti Sono pure Le richieste Che provengono Dall'esterno Che mutano Allora Ma non è questione Solo di capacità Probabilmente Influisce anche La capacità amministrativa Non voglio Metterti In cattiva luce Ma non è una questione Di capacità C'è una questione Che tu hai Un substrato Che è tutto diverso È completamente diverso Se tu non ti metti Nelle condizioni Tu non hai le condizioni Oggettive Per poter operare È indubbio Che tu non puoi arrivare Ad avere i livelli Ai livelli Del comune Delle stesse dimensioni Della valvata Opposto Sul problema Della sanità Ma scusa Questo io Lo faccio sempre Pure quando parliamo Tra colleghi Quando parlavamo E si diceva Però i vostri livelli Scolastici Sono inferiori No no Questo no Aspetta No no Ma io dicevo Allora Prendete Sti insegnanti Del nord No Portili In un X comune Periferico del sud E insegna La lingua inglese E vedi se possono essere Oggettivamente Gli stessi risultati Perché se tu io Insegno In un'area Dove Stimoli culturali Reddito alto Dei genitori Biblioteche Cinema Teatro Tutto Il substrato Culturale Esistente E qui invece C'è una povertà assoluta È chiaro che io Non posso avere Gli stessi risultati È impossibile Neanche se prendi E metti qui Ma è logico Stessa cosa anche Anche per qualsiasi altro Servizio Ma non solo Ma pure Su questo aspetto Potremmo discutere A lungo Perché La differenza Si trova pure Nella stessa città Tra centro E periferie Ma infatti Il problema Tra zona ricca E zona povera Nell'ambito Della stessa realtà Dove ci possono essere Interventi Familiari Sociali Che incidono Ma gli interventi Che tu fai Proprio perché Mi riporti sul criterio Della città No? Se io amministro Una città come Roma Gli interventi Che io vado ad operare E i parioli Non possono essere Quelli che sono Diciamo Nella zona della Magliana E non può essere Lo stesso Cioè io devo creare Delle 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 Azioni Strutturali Essenzialmente Prima di tutto Strutturali Che mettono Nelle condizioni Di poter operare In un contesto Ma io dicevo In qualche modo Lo rendi Omogeneo Alcuni tecnici Che parlavano Del suo sistema Della sanità Sanità Di Alta qualità O di eccellenza Al nord Al sud Dove Esistente Diciamo Nella Calabria Con i medici cubani Al quale va La nostra stima Non è No Per dir Il discorso mio È questo Dicono La regione Calabria Per quel che riguarda La sanità Deve partire Con gli stessi standard Che hanno Le ragioni Più ricche Allora E di conseguenza Debbono partire Pari Come Punto di partenza E sapersi autodeterminare Col passare del tempo Per pervenire Negli stessi standard Di qualità Di efficacia E di efficienza Allora Fermo restando Regionamento Sia come cittadini Responsabili Sia in particolare Anche come istituzioni Amministratori E istituzioni Responsabili Quella Diamo per scontato Questa Quest'azione di responsabilità E interrogarsi Il sud Quali sono Le manchevolezze Proprie Dello stato Perché siamo In questo Stato Su questo Non ci piove Cioè Non ci deve De responsabilizzare Il fatto stesso Che noi stiamo Facendo questo Regionamento Però Oggettivamente Tu non hai Dal punto di vista Strutturale Non hai Le stesse Potenzialità Allora E qui si gioca La nostra credibilità Allora Facciamo Un esempio Quello che dicevi tu Ma tu pensa Che rispetto Agli anni 70 In tema Dei trasporti In tema Dei trasporti Noi abbiamo fatto Più passi indietro Che più passi avanti Allora Fermo restando Abbiamo Allora Certo Qualitativamente Se tu vai a vedere L'alta velocità Quell'alta velocità Ha determinati risultati Obiettivamente Obiettivamente Migliori Ma La struttura La rete Del paese È completamente Smobilitata Ma per tanti motivi I paesi interni Le strade Che scendono a petto Ma anche le strade principali Ma tu devi In questo paese Non è che lo puoi spianare Questa regione La devi considerare Ora Tu hai migliorato Su altri motivi E le mie riflessioni Consistono Che Nella nostra regione Per quanto riguarda Le infrastrutture Peccano Anche Di Di mancanza E di consapevolezza Politica I nostri Amministratori Mi riferisco Quelli che operano No ma questi devono essere Dello Stato E vedi come arriva Ma lo Stato Non c'è stata Una spinta Per modificare Alcuni atteggiamenti E determinati Stili di vita Ancora Vengono ad essere Risanati Rivisti I ponti Del fascismo Sulla 106 Quando avremmo dovuto avere Un'arteria Pari a quelle che sono Le risultate Dei nostri tempi Ed è uno Secondo Tra regione E province O città metropolitane Nel nostro caso Le realtà Dei paesi O delle province Che operano Nel centro Della regione Abbiamo visto Che si sono sviluppate Con un discorso Omogeneo Non soltanto Nelle zone Rivierasche Ma anche Nelle zone interne E nelle zone montane Cosa che Nella nostra città Metropolitana Pecca Sotto tutti i punti di vista Ma scusa Che ti interrompo Allora Al mio parere Almeno Se noi andiamo a fare E che il discorso E la classe politica Che mangia Scusa Ma se noi andiamo a fare Un po' E rendi conto Di oggi Fino a oggi Della ricaduta In termini di servizi Nella nostra regione Ma in generale Io rivedrei Lo stesso istituto regionale Ti chiedo scusa La presunzione Ma parlo da profano No Allora Scuola Sanità E rete infrastrutturale Non può essere Allo Stato Allo Stato Allora Si è dimostrato Innanzitutto Ma allora Ragioniamo un attimo Dal punto di vista Della qualità Del servizio Non è migliorato Dal punto di vista Del costo Cioè Aumenta la dismisura Quanti sono Quanti sono L'incidenza Del costo Che abbiamo oggi E quindi anche Del debito Quanto debito Ha creato L'istituto regionale La creazione Dello stesso istituto regionale Rispetto a prima Molto di più Sperpero di risorse Allora Questi tre capisalti Secondo me Andrebbero Riesaminati E dire Ma questi tre Li dobbiamo affidare Alle regioni Oppure lo Stato centrale Forse Allora Capisco Il resto La gestione Gli enti Devono essere Amministrativi A mio parere Non possono essere Autogestiti Allora Ti faccio un esempio Ti faccio un esempio Io ricordo Io ricordo Quando Le province Le province Le quali erano Degli enti In effetti Che gestivano poco Scusa Gestivano poco Gestivano le scuole superiori E le strade provinciali Ma le strade provinciali Almeno C'era intervento Io vedevo i cantonieri Vedevo tutto Vedevo Allora La sanità La sanità Continuando così Dobbiamo continuare A rassegnarci No Bisogna cambiare Ci vuole Bisogna cambiare Il registro Quando non funziona Anche Andare a trovare Quelli che sono I punti negative E colmare Le lacune La prima cosa Non solo Anche qui Un paese Che è così Disgregato Un paese Che è così Diviso No Dove Dove Non sono bastati Negli anni Di gestione Diciamo Diciamo Pre fascista Liberale Né quella fascista Né quella democrata Forse il momento migliore Per quanto riguarda L'unità del paese Cioè un'idea Di costruzione del paese Si era avuta Con la cassa del mezzogiorno La prima cassa Poi è stata utilizzata In modo clientelare E lì È finito tutto Però almeno lì C'era un piano C'era un'idea Di paese No L'idea Della nascita Della cassa del mezzogiorno Qual era? Era quella di portare Stutturalmente E ritorniamo sempre Come il cane Che si morde Alla forza Non abbiamo avuto Una classe politica In grado di capire E allora oggi Di capire come muoversi E come gestire Quelle somme Ingenti Che sono perdute E allora E allora Perché io me la prendo Inizio a prendere Con la mia parte politica Nel 2001 Non bisognava interrogarsi Sull'autonomia differenziata Bisognava mettersi A tavolino E dire Andiamo a vedere i numeri Vediamo come è funzionato Finora l'istituto regionale Facciamo una riflessione Su come è funzionato Probabilmente Alcune regioni Hanno una qualità Migliore Però l'abbiamo visto In pandemia Quando hanno toccato La sanità Quando siamo andati A vedere la sanità Anche quella sanità Che noi pensavamo Di eccellenza Ha mostrato Sì L'epoca L'acqua L'acqua E allora Io mi aspettavo Nel 2001 Che non si fosse agito Sul piano Della strategia politica Qualcosa di bestiale Cioè Non si tocca mai La Costituzione Per questioni Tattiche Politiche Ma sì Anche la sfida Nei confronti della Lega Doveva essere questa Sì Andiamo a vedere Siediamoci a tavolino E vediamo quali sono Le responsabilità Dell'ente locale E che ci sono Della classe dirigente locale Andiamo a vederle Però andiamo a vedere Anche quali sono Le responsabilità Dello Stato Dove è mancato Lo Stato Perché se tu Ancora Ci dibattiamo No Sulla 106 Ionica E anche qui L'altro giorno Leggevo sulla Gazzetta del Sud Il commissario Non so come si chiama Dice adesso Salvini sta investendo La propaganda Noi è da una vita Che stiamo parlando Di 106 I morti aumentano E gli interventi A spezzoni Sulla 106 Sono quelli Che sono Ora Uno Stato serio Uno Stato serio Uno Stato serio Che aveva E ha Un concetto Di Stato Una classe dirigente Che ha un concetto Di Stato Che cosa faceva Altri Questa è una priorità Se è una priorità Si fa No Cominciati a parla Del ponte E tutte le azioni Più eclatate Ti parla Ti parla di altro E non si ferma Su quello che sono Si sviano I problemi Il discorso di fondo Molte volte Molte volte Devo andare Alla città Alla città Della regionale Tu mi credi Che mi prende Ogni volta Che vado La febbre Sul presupposto Che so Non so Quando arrivo Non so Come arrivo E non so Anzi sappiamo Dove ci sono Il problema Degli autovelox Io No Non è questo Io ho bisogno Di una strada Percorribile E sicura Non so Che devo andare A 30 all'ora Come si suol dire E non arrivo mai Né all'andata Né al ritorno A casa Poi si scivola In queste cose Non è che si scivola Voglio dire Che molte volte A noi I problemi Che non riusciamo Ad affrontare Troviamo Una scappatoia Per mettere Freni Ad altri processi Che debbono Invece animare La vita Del cittadino Che cosa Intendo dire Con questo Perché su Catanzaro La 106 Si farà Perché sulla città Metropolitana Non si farà E allora Inutile che facciamo parole E facciamo soltanto Che si traducano Poi in chiacchiere Manca Una politica E una classe politica Capace di smuovere Queste acque Che sono ormai Arrugginite In Ingranaggi Che sono ormai Atavici Non si smuovono Allora Ma questo In un sistema Incanclinato Non ci deve portare All'idea Non ci si muove Io per questo Ti dicevo Io piuttosto Che mettere mano Alla Costituzione Allora Ma anche oggi Questa protesta Dice Siamo contro Va bene Siamo contro L'autonomia Differenziata D'accordo Io lo sono stato Ero tra quelli Che ha votato contro Ma io ti voglio dire Ma come mai Questa classe politica Che ieri Osannava Oggi cambia bandiera E lì è il discorso Di mondo Si vede che non hanno Delle chiare Su quanto sfrontano I problemi Che debbano investire Poi la totalità Dei cittadini Non c'è l'onestà L'onestà Di dire le cose come stanno O non hanno capito Un bel niente No no Capiscono Quando qua A singhiozzo O a tornaconto Perché ti dico Che è ipocrisia Ora Anche questo argomento Utilizzato Dal punto di vista Propagandistico Non serve a niente Si dimostra un boomerang Perché uno Se va indietro Dice ma scusa Tu oggi sei Contro l'autonomia Ma ieri Tu ti sei battuto Oppure dice Tu eri in Parlamento No invece di votare E di ostacolarlo Tu sei stato lì E poi non sei andato A fare la battaglia referendaria Come dicevi Ora Questo qui Che cosa denota Denota che noi Non abbiamo Il senso Dello stato Come nazione E io questo Mi sarei aspettato Alla destra Ecco Che è sempre parlato Di nazione E di patria Non può fare neanche Essa tattica Perché deve Tenere unito Un La propria maggioranza Con la lega Nazione Nazione Stato Nazione Questi termini Patria Significano un tutt'uno Significa avere Un concetto Unitario Dello stato Ma se tu questo stato Ormai L'hai ridotto A brandene Tu lo devi accumulare Non dividere Mi sarei aspettato Un discorso Di natura diversa In che senso Messi a confronto Le tesi Opposte In questo caso Che si facesse Chiarezza E che ciascuno Motivasse A non Soltanto In salotti Che poi Non incidono Ma con una serie Infinita Di interventi Perché anche Il cittadino L'elettore Possa capire Nelle piccole Sfaccettature Quello che sta avvenendo Ho ascoltato E me devo dire Che il cittadino Allora Quando è andato A votare O non è andato A votare Per la modifica Del titolo quinto Poi tanta Tanta forza E tanta decisione Non l'ha messa Perché è pur vero Questo Il cittadino Lì ha avallato Quella situazione Ha avallato perché? Perché quelle Le tendenze Espresse dalla politica Maggioritaria Allora Anche qui Anche qui No Il cittadino Non può Tirarsi fuori E dire Quello è stato Il momento Un determinato Momento storico Io sono stato Trascinato E poi è peggio Allora Qui significa Che il cittadino Deve assumere Improprio La sua veste Di sovranità La sovranità Appartiene al popolo Nel misura in cui Tu valuti Che quell'azione È negativa Che ti viene proposta Quindi Tu devi esercitare In modo Critico Il tuo diritto Il tuo diritto Di voto Cioè Quando Nel 7 ottobre Del 2001 C'è stato Quel risponso Del referendum A mio avviso La responsabilità Dall'uomo politico Che l'ha maturato Nel Parlamento Si è spostata Sul piano Del cittadino Il cittadino Ha O consapevolmente O inconsapevolmente Ed è peggio Ma era Era un unico Era come si dice Un unico pensiero Adere il pensiero E allora qui Io mi aspettavo Quelli che oggi parlano Che facessero Quelli che fanno Un auto Intellettuali Tutti questi che fanno Orientamento politico Ho visto per esempio La presa di posizione Dei vescovi Giustissima È giustissima Quella presa di posizione Odierna Odierna Dei vescovi Quella presa di posizione Andava presa Quando si modificò La costituzione Oggi è tardiva Oggi rischia Di essere tardiva Non dico che è tardiva Rischia di essere tardiva Ma tu immagina Un paese Diviso Già di per sé Che tu Certifichi La propria La propria Divisione È da fare fare Caracchia Il discorso è proprio questo Nel momento in cui Stessa cosa Scusa il sindacato Il sindacato È morto Allora Ma era morto anche nel 2001 Io non ho visto Allora Adesso vengono Quelli che allora erano Dirigenti sindacali No? Cofferati Tutti Vanno nelle trasmissioni E ti parlano Ma scusate Nel 2001 Questo pericolo Non c'era Questo pericolo L'abbiamo vissuto E l'abbiamo vissuto Da spettatori Dobbiamo assumerci Le nostre responsabilità E dire Purtroppo abbiamo sbagliato Almeno che si dicesse questo Non si dice neanche questo Oggi si parla E cominciano E ti imbrogliano Dice Sì però Noi avevamo previsto I leppi L'M L'S Allora Il soldone Il soldone Non è rimasto Soltanto nemmeno briciole Ma solo pollare Bravissimo Bravissimo E qui E qui Torniamo No? Io Non è un caso Che questo avviene Nella A cavallo Tra la fine Degli anni 90 E nel 2000 Perché Questo è avvenuto In quanto Sono stati distrutti I partiti Anche Questo è avvenuto Ma erano passati Già di 11 anni Ah no Allora guarda Giovanni Io sono convengno Ma sì Ma l'unica struttura Che esistente Era quella L'ex PC Che allora E poi diventato DS Però Cominciarono A emergere I partiti Personali Anche Nella sinistra Allora D'Alema Ha fatto la stagione Di D'Alema Poi c'è stata la stagione Non so Di Renzi Ognuno ha fatto la sua stagione Cioè Anche quel pezzo Di sinistra Che aveva Così in qualche modo Un connotato Di partito Di fatto Sono diventati Dei partiti Di tipo Personali O di gruppo No? L'avvento Dei partiti Personali Che è iniziato Con il centrodestra Ha praticamente Svilito La discussione Non c'è stata più Discussione Non c'è Quello che all'interno All'interno Delle sezioni Anche le piccole realtà Venivano ad essere elementi Non soltanto di scelta Di condivisione Ma era il dibattito stesso Che poi si allargava A macchino E incideva Su quelle che erano scelte Futuri La seconda parte Di questa riflessione Secondo me Va fatta proprio In questi termini Perché è vero Che nel 1970 Si istituirono Le regioni E si istituirono Nel 70 Dopo 22 anni Dall'entrata in vigore Della Costituzione Non è passato un giorno Ma che cose Erano avvenuti In quei 22 anni Il paese era cresciuto Economicamente Era diventato forte Da paese Diciamo Ridotto In minimi termini È diventata Una potenza Economica Non solo Sono cambiati Gli umori Perché Perché Si pensò All'istituto regionale Con l'autonomia Dentro le cosiddette Leggi cornici Cioè lo Stato Che deve vigilare La consapevolezza Ma le regioni Per esempio Alcune realtà Come la sanità La scuola La scuola non era stata messa regionale Come questo Mentre si parlava E si ventilava In un primo momento Nemmeno la sanità Doveva essere regionale L'altro punto Ma i punti essenziali Erano La scuola Che diventava A livello nazionale Perché dovevano essere Indirizzi comuni A tutto Il territorio Ma quando avviene Sta cosa Quando crollano i partiti E non è un caso Che agli inizi Degli anni Ne avanti Le famose Legge Bassanini Sull'autonomia E' già stata La prima E' stato il primo Sistema di autonomia Di autonomia Che non andava Che non andava Fino a quel tempo I comuni Venivano ad essere Gestiti E vieno i comitati Di controllo Sugli enti locali Non solo Che esprimevano giudizi Non soltanto Di legittimità Ma spesso anche nel merito Ma non solo Avevano anche I dole di difetti Ricordiamo per esempio Nei comuni La figura del segretario comunale Che era legata Al ministero degli interi C'era un controllo Per lo meno C'era un'unità Un'unità strutturale Cioè Era giusto Che si arrivasse A forma Ma graduale Di autonomia Non che si arrivasse A una forma Più che graduale Di disgregazione Del paese Noi siamo arrivati A non capire più A concepire Che significa autonomia Siamo arrivati A capire Che autonomia Significa Fare quello che si vuole Questo è stato Il messaggio Che nel tempo E' stato dato E allora Come oggi Ecco Per questo ti dico io Oggi Come fai tu A discutere Con serietà Di un argomento Altamente divisivo Come quello Dell'autonomia differenziata In un contesto Di dibattito politico In cui Nei partiti Non si discute No niente Allora Grande casi sporadici No 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 Piccoli gruppi Non si discute Naturalmente Si parla Allora Si parla Anche In realtà In realtà Ristretta Sai perché ti dico questo? Perché Ormai Dei partiti personali Li abbiamo All'indomani del 92 Cioè Dopo L'escesa in campo Di Berlusconi Ha detto I partiti personali Ha contaminato Tutto La politica italiana Ma noi L'abbiamo visto Puri Allora Ma io sono andato A vedere Nel dibattito Parlamentare Che c'è stato Nel 2001 Su questa legge Io sono andato A leggermi L'intervento Fatto da Leopold Elia Una figura Di costituzionalista Io Francamente Sono rimasto Scandalizzato A vedere Come ha motivato Legandola Peraltro Alla legge Bassanini Come ha motivato Che praticamente L'autonomia Che non è questa L'autonomia La cosiddetta Autonomia Differenziata Che è andata In costituzione Era una conseguenza Naturale Verso questo Progresso Ora E sono rimasto Scandalizzato Perché se non lo avverte Che ha questa Sensibilità Culturale Alta Figuriamoci Come può arrivare Il messaggio A un corpo naturale Anche I disastri Che la legge Bassanini Ha comportato Che mentre Da un lato Poteva essere Valida Per una Dove vi è Una democrazia Matura Dal rimando Abbiamo visto Di quel sistema Di autocertificazioni Che avevano creato Non soltanto Disguidi Questo è un altro argomento Bisogna soltanto Stendere Dei veli pietosi Esatto Amici telespettatori Dalle regie Ci dicono Che Il tempo Ahimè È tiranno Abbiamo parlato Abbiamo discusso Abbiamo pacificamente Posto Sul tappeto Alcuni aspetti Che oggi Vedono impegnati Associazioni Partiti politici Tutto il mondo Del volontariato Ciascuno cerca Di dare E di darsi Delle motivazioni Per quel che riguarda L'aspetto Di questa autonomia Ben inteso Che non vi è una verità assoluta Una verità Oggettiva Perché quelli Che ieri Dicevano Che l'autonomia Era Un modo Per Democratizzare Ancora di più Il nostro paese Oggi Sono di tutt'altro avviso Quei partiti O schieramenti politici Che a quel tempo Nel 2001 Hanno fatto come Pilato O hanno cercato di fare Lavandosi le mani Che le mani Oggi Assumono Atteggiamenti diversi Alla illusione Si è giunta La beffa E questo Popolo Come il nostro Che deve Molte volte Subire Quelle che sono Le imposizioni Che provengono Dall'alto Ci rinconi E ci inducono A pensare Per cui Ritornando Al discorso Di prima Di apertura Della nostra Trasmissione Automia Differenziata Si parla Di balletto Della grande Ipocrisia Dice Vito Pierruccio Siamo partiti Da questo Presupposto Pensiamo Che anche noi Abbiamo fatto Confusione Su un aspetto Non secondario Dell'attualità Politica Del momento Questo problema Dovrebbe essere Quotidianamente Ribattuto Perché va di mezzo Non soltanto La nostra credibilità O l'apparato Dello Stato Democratico Ma vorremmo Perlomeno capire Come muoverci In questo Vario in atto Panorama Della politica Di casa nostra Ditorneremo Sull'argomento Anche Ascoltando Le altre Campane Pensando Di fare chiarezza E di farci chiarezza All'interno Della nostra Cultura E della nostra Mentalità politica Vi ringraziamo Per averci Voluto Ascoltare Vi auguriamo Un buon proseguimento Con i nostri programmi La buonasera Da tutti Questo programma È presentato da Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.